Impresa perché occupiamo il penultimo posto della classifica, però noi non la viviamo come un'impresa perché sono molte partite che comunque riusciamo a fare prestazione, però non concludendo con i risultati. Oggi invece, grazie alla grinta di tutti e al supporto di tutti i giocatori, anche quelli che fanno parte la nostra prima squadra che ci sono venuti a vedere e a tifare, siamo riusciti a vincere. Oggi sono arrivati due gol, la mia stagione purtroppo è partita da metà anno per vari vicissitudini, fino ad ora sto tra Coppa e Campionato a una decina di gol e la mia personale non mi sento soddisfatto, devo dire la verità, perché io voglio sempre vincere e quindi non mi basta mettere in bottino solo i gol. È fondamentale perché senza questi tre punti noi abbandonavamo il discorso salvezza, play-out, abbandonavamo qualsiasi possibilità di crederci. L'altra partita è finita 2-1 per il BVB e all'ultimo secondo e noi ci siamo mangiati due gol, oggi abbiamo vinto e ci siamo rimessi in corsa per fare i play-out e è quello che noi vogliamo fare, l'obiettivo che ci siamo posti.